Carissimo segretario ben arrivato, oggi abbiamo presentato ai nostri amici i vari istituti innovativi dei nostri contratti collettivi. Abbiamo parlato del contratto collettivo intersettoriale che riguarda gli amici riguardo al settore commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo, e poi del contratto dei mentalmeccanici. Mi farebbe adesso piacere una battuta da parte sua dove si parla di questo nuovo modello di relazioni industriali. Non mi sottolineo. A fronte delle tante positività che abbiamo nel contratto, a me piace sottolineare che il rapporto tra Comstall e CIFA è l'esempio di una relazione moderna tra sindacato dei lavoratori e associazioni di imprese. Un rapporto che si basa non sul conflitto ma sul dialogo, un dialogo che nasce dalla consapevolezza da parte del sindacato che il benezzo alla tutela dei lavoratori passa anche attraverso la crescita delle imprese. È identica consapevolezza da parte dell'imprenditore che la competitività dell'impresa passa anche attraverso il benessere dei lavoratori. Quindi lavoratori e imprenditori hanno la comune consapevolezza che in questo grande momento di crisi devono unire gli sforzi, devono fare squadra per portare il Paese fuori dalla crisi e avviarlo verso la crescita e lo sviluppo.